vorrei presentarvi anche la dilaminatrice di pizza group molto facile da utilizzare quindi abbiamo l'accensione qui sul pulsante verde regolazione dei rulli meno in alto più spesso sulla parte inferiore idem per il rullo più grande sotto quindi più fine sulla parte superiore più grossa sulla parte inferiore poi avremo questo bilanciere che in pratica ci farà ruotare il disco per farlo diventare tondo prendiamo la mettiamo all'interno grazie